Nessuna sorpresa. Dopo l'exploat di Milano, Fravuel e Armani, alla vitrifrigoarena, finisce come da copione preventivabile. Troppo superiore la squadra di Messina, troppo avviluppata nei suoi limiti attuali la squadra biancorossa, ancora priva di Banford e con l'innesto ritardato di una settimana di McDuffie. Milano passa con un netto 65-85, frutto di un vantaggio costruito a inizio ripresa e allargatosi in maniera decisiva nel terzo parziale. La Vuel, dopo un buon approccio, finisce per perdere riferimenti e misure di contrasto agli avversari. Una crisi di risultati che ora si spera di invertire nella prossima gara con Brindisi decisiva in lotta a salvezza. Dalla Serie A alla Serie B di basket, l'Ital Service Loreto perde lo scontro al vertice di Senigallia cadendo all'overtime. La Golden Gas vince 79-75 e mantiene la vetta in coppia con Matelica. Nel calcio buon pareggio per la Vispesor che Albenelli impatta 0-0 con la carrerese quarta forza del torneo, allunga 8 la sua striscia di risultati utili consecutivi e resta quanto mai viva nella lotta in bagarre di zona play-out. Nel calcio 5 è stato invece un venerdì da Leoni per l'Ital Service che gioca una gara strepitosa battendo al Palamegabox i campioni d'Italia in carica della Fel di Eboli. 4-1 che manda invisibilio il nutrito pubblico peserese. Ital Service che va sotto nel punteggio dopo appena 29 secondi di partita ma regisce in maniera ruggente rimontando e dilagando. Prima con l'1-1 di Miguelen con cui si va all'intervallo, poi nel secondo tempo il trionfo firmato dalle marcature di Moab di Olivera prima della ciliegina finale del portiere Putano. Nella pallavolo si interrompe il buon momento della Megabox che torna senza punti dalla trasferta sul campo della Washford Green Pinerolo dopo una maratona di 4-7 nei quali la squadra di pistola ha sfiorato il tie-break ma ha ceduto di fronte al servizio dell'avversario capaci di ben 9 ace. Vallefoglia cade di misura nel primo set, vince il secondo e perde il match in un prolungato quarto set chiuso sul 32-30 in favore delle piemontesi. Palla ovale amara invece per la Fiorini Pesero Rugby che chiude il girone d'andata perdendo in casa 17-10 contro i Veneti del Tarvisium in un match combattuto in cui Kiwi muovono la classifica conquistando un punto di bonus difensivo.